Le funzioni parte prima. In questo primo tutorial dedicato alle funzioni introdurrò il concetto di grandezza, parleremo di grandezze costanti e variabili e di variabili indipendenti e dipendenti. Cominciamo vedendo che cos'è una grandezza. Una grandezza è una qualità di un corpo che può essere misurata ed espressa con dei valori, cioè dei numeri. Sono grandezze la distanza tra due città che può essere espressa in chilometri, l'altezza di una montagna, lo skiddoe che è una montagna scozzese alta a 931 metri, il numero di pagine di un libro. Invece non sono grandezze la simpatia di una persona che è una qualità soggettiva e non misurabile in maniera numerica, oggettiva, la noiosità di una lezione, anche questa, e la bellezza di un tramonto che ad alcune persone può piacere tanto ad altre di meno. Grandezze costanti e variabili. Le grandezze che ho utilizzato negli esempi precedenti conservano sempre lo stesso valore. Esse sono dette grandezze costanti. Sono grandezze costanti la distanza tra due città, quindi, l'altezza di una montagna e il numero di pagine di un libro. Ma vi sono grandezze che possono di volta in volta assumere valori diversi. Esse sono dette grandezze variabili, cioè che variano. Come? Il numero di pagine dei tuoi libri scolastici, perché se quello di matematica è una 200, quello di antologia è una 300. Il tempo che impiega andare a scuola, che dipende dalla velocità, dalla voglia, dal mezzo che impieghi, e il perimetro di un rombo, che dipende dalla lunghezza del lato. Variabili indipendenti e dipendenti. Due grandezze variabili possono essere messe in relazione tra di loro. Il numero della scarpa che indossi può essere messa in relazione con la grandezza del tuo piede. La temperatura in un posto con l'ora del giorno in cui viene misurata. Il perimetro del rombo con la lunghezza del lato. In ognuno dei tre esempi che ho appena fatto vi è una variabile che può assumere valori arbitrari, cioè che lo scegliamo noi. S è detta variabile indipendente. In matematica di solito si indica con la lettera x. Erano variabili indipendenti negli esempi di prima. La grandezza del tuo piede, l'ora del giorno in cui misuriamo la temperatura e la lunghezza del lato del rombo. E in ognuno dei tre esempi che ho fatto prima vi era una variabile il cui valore dipendeva da quello assunto dall'altra variabile. Essa è detta variabile dipendente. In matematica di solito si indica con la lettera y. Erano variabili dipendenti, negli esempi di prima, il numero di scarpa che porti, perché dipende dalla grandezza del tuo piede. Era variabile indipendente la temperatura, perché dipende dall'ora in cui viene misurata. Ed era variabile dipendente il perimetro del rombo, perché dipende dalla lunghezza del lato. Proseguiremo il discorso nel prossimo tutorial.